Con l'UG5 hai trasformato questo sogno in realtà con la tua punizione? Sono contento per il gol, è arrivato nel momento più importante della stagione ma al di là del gol sono contento per la prestazione su un campo molto difficile al limite del praticabile Sei il capitano di questo gruppo fantastico, hai trascinato questa squadra allo spareggio di Nola adesso? Diciamo di sì perché è venuto con il mio gol ma il merito è di tutti qui ci sacrificiamo settimana dopo settimana già da un po' di tempo abbiamo combattuto pure con qualche infortunio o qualcuno che è venuto meno prima della partita quindi oggi era importante vincere al di là di chi faceva gol proprio per la posta in palio Bisognava vincere e lo vede fatto su un campo al limite della praticabilità Cosa adesso serve a questo Belizzi per sognare ancora di più? Adesso serve recuperare un po' di energie perché nelle ultime gare abbiamo speso veramente tanto recuperare qualche infortunato e poi andarci a giocare questa partita con la massima leggerezza perché noi l'obiettivo stagionale era la salvezza abbiamo fatto il cosiddetto miracolo Noi non ci poniamo limiti, speriamo soltanto di fare una grande gara magari regalare ancora qualche gioia ai presidenti che mi guarda sorridente ai tifosi e il regalo ce lo facciamo pure a noi Quando hai visto la palla bucare la rete dell'avversaria la tua corsa sotto il settore ospite sarà una corsa quasi una liberazione? Sì, è stato un gol che ha fatto sprigionare un po' di gioia perché su quel campo era veramente difficile giocare da fuori non rendeva la visuale per come era dentro e poi trovare un gol così, magari anche fortunosamente perché la palla è rimbalzata un po' prima di entrare ma i gol come vengono sono tutti uguali l'importante è fare bene e andare avanti con umiltà come sempre La dedica degli UG5? La dedica già l'ho fatta l'altra volta a mia moglie questa settimana la voglio dedicare alla presidentessa il presidente ormai è uno di noi non lo calcoliamo più come presidente perché ormai lui fa parte proprio del gruppo squadra quindi un pensiero speciale a lei perché ci segue sia in casa che fuori adesso è venuta col pullman con noi quindi di far capire l'attaccamento che ha questa persona nei nostri confronti